Alla fine questo blues questa fa la luce, c'è un beatro musicista E' un po' dal fatto che l'esperienza è un po' di viaggio, anche per due due mesi, come mai la puntuale? E' che ci sono momenti in cui il blues c'è, in fondo la gioia in cui c'è sui blues In questo rapporto non è lungo il cinema, ma giustamente l'ho trovato abbastanza e quindi... Ma manda che qua! E qui ti dico! Vedete, questo però non è la finita, con una ragazzione di cui ha l'attività del blues E in cui il momento della vostra età c'è altri concerti, ma è sempre lì che ci aspetta Alla fine! 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 Grazie a tutti 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 Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti